Sono Paolo Menapace, faccio parte dell'Associazione Anaunia Amici del Cammino di Santiago, all'interno della quale ho portato il progetto del Cammino Jacopeo da Anaunia. Faccio parte del Consiglio dell'Associazione. L'idea di creare il Cammino Jacopeo da Anaunia nasse, dopo un'esperienza mia con alcuni amici, di percorrere il Cammino di Santiago di Compostela nel 2006. A ritorno da questa esperienza molto interessante, molto bella, positiva, soprattutto perché sul Cammino veramente ti senti a contatto prima con te stesso, perché ti guardi dentro parecchio, ma soprattutto al contatto con qualcuno più in alto di noi. L'esperienza veramente mi ha coinvolto parecchio. Nel ritorno ho così pensato di poter creare un simile cammino anche in Val di Nonno. La volta dopo, nel 2007, nell'agosto, con un altro gruppo di amici, abbiamo percorso gli ultimi 100 chilometri del Cammino di Santiago. Anche lì un'esperienza molto bella. Questa volta siamo andati anche fino a Finisterra, dove c'è l'oceano, insomma, dove una volta i pellegrini raccoglievano la capa santa, la conchiglia, che è diventata simbolo del Cammino, e la portavano a casa per dimostrare di aver compiuto questo Cammino. A Finisterra c'è un fucherello, dove, così per tradizione da millenni, il pellegrino che arriva brucia un qualcosa di suo, un capo, un indumento, per così dimostrare un po' a se stesso che ha abbandonato, quindi bruciato, l'uomo vecchio, perché il Cammino l'ha rinnovato in un uomo nuovo. Io in quel momento avevo già il cappellino con scritto Cammino da Nauna, quindi l'idea era già stata messa a punto, insomma, con questi amici. Fra l'altro abbiamo anche percorso durante la primavera alcuni tratti del futuro Cammino per vedere se era possibile farlo. Quindi in quel momento mi sono sentito questa voglia di bruciare proprio il Cammino e così parlando un po' con quel qualcuno che è sempre sopra di noi e che ci ispira nelle nostre azioni, ho cercato di bruciarlo pensando e dicendo a lui io fin qui sono arrivato, vedi tu adesso se è il caso di continuare, se va bene come l'abbiamo impostato, se devi invece cambiare qualcosa. Quindi questo è stato un momento forte per me sicuramente e questo l'ho fatto, insomma, l'ho bruciato. Tornando al discorso del Cammino, quando sono tornato nel 2007, che appunto ho detto basta, io qui finisco e vediamo come va, dopo 15 giorni mi è arrivata una telefonata dicendomi e guarda che c'è il signor Carlo Paolazzi e il signor Remo Bonadiman che vogliono creare un'associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago. Allora ho pensato a questo, l'input giusto, insomma, può essere la strada giusta perché il Cammino possa veramente nascere, anche perché da solo non avevo nessuna pretesa di poterlo fare. Sono Carlo Paolazzi, sono presidente dell'associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago. Come è nato il Cammino di Occupero da Anaune Amici? Diciamo che c'è stata un po' questa idea di dire ma in Val di No, che cosa c'è in Viet? Ora noi sapevamo, o sappiamo, che gli antichi percorsi verso Roma o anche verso Santiago passavano attraverso l'anno, anche la Val di No. Ne fa testimonianza la ricchezza di chiese dedicate a San Giacomo la ricchezza anche di ospizi che sono posti lungo i percorsi che venivano giù dalla Germania verso l'Italia ma che venivano utilizzati anche nelle nostre zone dall'Italia per salire verso il nord. Su questo percorso, diciamo così, di forte memoria locale perché noi lo possiamo anche documentare si innescavano poi tutta una serie di percorsi locali legati alla presenza di santuari, alla peregrinaggi e quanto altro e percorsi di tipo anche economico. Noi avevamo, allora, la nostra idea è quella di far riscoprire la storia locale e, diciamo così, inserire questa storia locale in una serie di movimentazioni sul territorio. Per creare il Cammino Jacopeo da Naunia abbiamo cercato prima, innanzitutto, di scoprire i vari sentieri che siano realmente percorsi dai vecchi pellegrini, quindi dai nostri anziani. Quindi con delle interviste e delle domande agli anziani del posto ma anche alle amministrazioni comunali chiedendo, guarda, noi vorremmo fare questo tipo di progetto ditemi più o meno qual era la strada qual era il sentiero percorso dagli anziani del posto per andare, non so, verso il santuario di San Romedio oppure verso il santuario di Basilga di Bresimo e quindi credo che veramente questi vari sentieri che abbiamo collegato in un unico cammino siano stati veramente percorsi da tante persone negli anni. Nel Cammino Jacopeo da Naunia cerchiamo di valorizzare l'esperienza del camminare in un mondo come oggi che siamo tutti di corsa molto frenetici, molto stressati cerchiamo un attimo di riscoprire cosa faceva il viandante di una volta quindi il camminare con lentezza, il guardarsi anche intorno l'approfondire anche i luoghi in cui passa il viandante, il pellegrino Sui grossi cammini pertanto di tipo religioso io credo che fondamentale sia il mettersi alla ricerca di qualche cosa che può essere di ordine religioso cioè quindi noi andiamo a Santiago perché c'è la devozione verso San Giacomo ma ci andiamo anche per i lassi di tempo molto lunghi che ti cosenta il camminare, isolarti rispetto al resto ti dà l'opportunità di un drenaggio del tuo passato attraverso il quale fai emergere un po' ciò che di positivo o di negativo è una specie di purificazione insomma quando nel cammino religioso questo può essere importante nel nostro camminare civile forse nemmeno anche se comunque il camminare insieme per esempio crea solidarietà fra coloro che partecipano ciò che non è, crea condivisione fra chi si muove come dicevo prima crea relazione con l'ambiente con cui fai e alla fine ti accosi tornando a casa che è concluso una bella giornata, un bel periodo che sei diventato un po' più ricco, un po' più... questa è la storia di una valle come la valle di Nont che è una delle valli sicuramente più interessanti dal punto di vista anche archeologico diciamo così dell'epoca romana qua per i ritrovamenti, quindi c'è tutta una tradizione, una cultura che deve essere riproposta, cioè va divulgata, va comunicata che non può rimanere, è così, l'archeologia, noi diciamo non può rimanere né legata ad una realtà museale l'archeologia o anche così la, non so, la cultura, vanno vissute, cioè devono essere vive, devono apportare qualcosa, questo è un po' La nostra speranza è che il progetto Camminio Eco-Pio da Navnia possa essere utile alla comunità locale per veramente riscoprire, come dicevo prima, riscoprire il territorio, un territorio molto bello e molto ricco di cose artistiche ma credo e speriamo insomma che possa essere anche un motivo di interesse per il turista pellegrino che viene da lontano in questo senso abbiamo avuto dei contatti sia con la provincia che con l'APT della Val di Nonna e si sta creando un progetto generale di turismo religioso Il territorio lo si conosce meglio frequentandolo a piedi anche uno che abita normalmente sul territorio, che passa con la propria automobile davanti ad una chiesa, un monumento, una bellezza naturale non riesce a coglierne la sostanza invece muovendosi, entrando in contatto con le persone, fermandosi, parlando, eccetera si acquisisce, si acquisiscono tratti di storia, si acquisiscono tratti di cultura e si acquisisce quel rispetto del territorio che è fondamentale e in un certo modo noi pensiamo anche se riesce a dare una mano soprattutto nelle zone più periferiche a che nasca una qualche attività di ordine economico proprio legato al fatto di questa gente che si muove a piedi che soprattutto si garantisce una cosa che una volta che questo turista o il pellegrino è passato il territorio è rimasto più ricco, non più povero nello stesso tempo lungo il cammino cerchiamo di entrare nei paesi anche perché ci sono queste chiese da visitare, eccetera ma soprattutto perché troviamo delle persone anziane io ho notato veramente che gli anziani sono lì in piazza aspettare forse qualcuno che possa fare due chiacchiere con loro quindi il fatto che il pellegrino possa entrare nei paesi anche sperduti dentro nella valle, nella Nonsberg, quindi sui masi dove ci sono i contadini quindi il fatto che il pellegrino possa passare e magari fare due chiacchiere con queste persone credo sia importante anche questo ci rimane aperta un altro percorso che noi vogliamo così andare a soldare perché il pellegrino normalmente che si muove sul territorio può essere che eventualmente si rivolga a strutture agritour ma possiamo trovare o abbiamo avuto anche richiesta da parte di associazioni di scauto da associazioni di gruppi, eccetera che chiaramente non hanno la disponibilità economica per muoversi sempre lungo l'agritour e quindi cercare delle soluzioni in questo senso pensiamo di aver trovato almeno alcune soluzioni ma in prospettiva di avere sia attraverso l'utilizzo prima abbiamo parlato per esempio con San Zeno dove c'è una comunità lì hanno una casa che loro mettono a volentieri disposizione per questo a San Romelu ugualmente ci sarebbero degli spazi in valle ci sono molte canoniche dismesse perché purtroppo i preti sono sempre di meno gli stessi comuni hanno degli spazi che in un certo modo possono essere convertiti qualche comune addirittura ha messo insieme anche delle case sociali ad esempio Castelfondo tipo Stello della Giovetto dove eventualmente ci si può muovere quindi si tratterà nel prossimo periodo di mettere insieme tutte queste situazioni da loro creare proprio questa rete stabilire delle convenzioni perché queste sono fondamentali per poi rendere accessibile il cammino a queste persone che vengono in questo senso per quanto riguarda il futuro credo che non sta a noi decidere o fare delle proposte troppo in avanti perché qualcuno sicuramente ci indicherà la strada che dovremo percorrere per ora abbiamo implementato il cammino speriamo che venga capito, venga accolto da più persone possibili dopo in base alla richiesta anche di questi nuovi pellegrini si vedrà come portare avanti il progetto come attuarlo, come migliorarlo soprattutto come attuarlo, come attuarlo